Io sono molto lieto di essere qui in Molise, tra l'altro è una delle prime mie visite in Molise, mi fa molto piacere di incontrare gli amici imprenditori di questa regione. L'Italia è un mosaico di diversità, di competenze straordinarie, di qualità, e in Molise è sicuramente una di queste, quindi sono qui per sentire anche le problematiche più tipiche della vostra regione, anche per orientare l'azione di Confindustria per cercare di dare una mano alla soluzione dei problemi. La prima volta per Giorgio Squinzi in Molise, il neopresidente di Confindustria, ha voluto presenziare all'assemblea annuale dell'Associazione Industriale del Molise, organizzata a Pozzilli da Mauro Natale, vertice molisano della categoria imprenditoriale. E Squinzi anche in Molise ha ripetuto l'elenco delle doglianze che quasi ogni giorno vede gli imprenditori italiani ripetere al governo. Meno oneri per le imprese, meno vincoli e pastoie, meno burocrazia, altrimenti il miglioramento della produttività e della competitività resterà un miraggio. Stessi concetti ripetuti anche da Umberto del Basso De Caro, sottosegretario alle infrastrutture che ha dato comunque una speranza ai molisani, quella che i cantieri della Termoli San Vittore partiranno. Ci sono 200 milioni da spendere subito, è stato trovato un compromesso con la superstrada Telesina, a cui in un primo momento erano stati destinati tutti e 400 milioni disponibili. De Caro ha detto che c'è stata la mediazione di Danilo Leva, per cui che 400 milioni sono stati divisi tra Termoli San Vittore e Telesina. Con quei soldi nessuna delle due opere sarà completata, ma almeno partiranno i lavori. Noi abbiamo giovedì scorso licenziato l'undicesimo allegato infrastrutture, che dovrebbe, uso il condizionale perché è d'obbligo essere approvato nel DEF domani dal Consiglio dei Ministri. E naturalmente abbiamo elencato le opere, a giudizio del Ministero delle Infrastrutture, assolutamente strategiche, tra le quali la Termoli San Vittore e anche l'alta capacità sulla linea Termoli-Lessina. Su questo dobbiamo imprimere una velocizzazione. Per la Termoli-Lessina abbiamo già fatto un tavolo la settimana scorso con i rappresentanti delle regioni Puglia e Molise e ci siamo aggiornati per la decisione finale al giorno 22, che è il martedì in Albis, per non perdere tempo. Alle 15.30 ci vedremo con i rappresentanti del Molise e della Puglia e definire tutto.